Buonasera a tutti, grazie a chi ci ospita, sentite? Si sente? Buonasera a tutti, grazie a chi ci ospita, quelli alla finestra dopo hanno detto che vi offrono il caffè se volete salire, ciao! Grazie a tutti, io arrivo da Campogagliano e prima da Reggio Calabria dove stamattina c'era tanta gente, il problema è che mi dispiace che è arrivata un po' di pioggia per cui credo di non dover parlare più di tanto altrimenti rischiamo di dover andare a casa, intanto grazie, un grazie grande come il cuore perché non c'è mai nulla di dovuto né scontato tanto meno verso di me, quindi grazie davvero perché questa avventura la dobbiamo vivere come una grande sfida collettiva, ero partito da casa mia a Campogagliano ho voluto chiudere a Bologna perché fatemelo dire anche Bologna per me è casa mia, è casa mia da tanti anni lo è perché abbiamo qui insieme a tanti di voi da tanti anni provato a fare andare il meglio possibile quello che potevamo anche con tutti i nostri difetti in questa regione, ci sono tanti di voi vedo Virginio, vedo Elisabetta, vedo tanti altri che stanno governando con me adesso, che hanno governato con me o che hanno in questi anni quando ho guidato il Partito Democratico a livello regionale mi hanno dato una mano io ho fiducia che domani venga gente, dobbiamo sfidare, temo anche il maltempo ma il Partito Democratico credo che di prove nel maltempo ne abbia già viste tante soprattutto dobbiamo fare in modo che il maltempo non torni più dentro al Partito Democratico ma magari rimanga fuori e per questo guardate, io non so se sono l'usato sicuro, una vecchia formula del PD lasciamole decidere domani agli elettori quello che vi posso dire è che prima ancora che il risultato di Bonaccino di Schlein vinca il Partito Democratico io l'ho sempre intesa e interpretata così perché ho sofferto troppo come voi di troppe litigi a livello nazionale in questi anni e come ho già detto, se domani sera toccherà non a me ma a tutti noi io dal giorno dopo voglio, come credo di aver saputo fare quando ho guidato il PD regionale unire il Partito Democratico condizione essenziale per poi subito la vera sfida costruire l'alternativa perché la prossima volta tra qualche anno quando si tornerà a votare io vi prometto se divento segretario che quest'altra volta la destra la batteremo nelle urne abbiamo bisogno di un Partito Democratico che torni tra le persone io credo che la sfida più bella sia e sarà quella di tornare dove ogni tanto eravamo un po' spariti, molti meno da queste parti altrimenti non avremmo vinto le elezioni tre anni fa e non le avremmo rivinte in praticamente in tutti i comuni o quasi in cui si è votato in questi tre anni a partire da questa bellissima città abbiamo il dovere di tornare tra le persone in tutti i luoghi di questo paese quando sono andato a Mirafiori non vi nascondo che avevo qualche timore perché temevo che andando lì e avendo scoperto lì che l'ultimo segretario era stato Bersani nel 2012 cioè undici anni prima temevo che potessero arrivare alcuni fischi e voi sapete che sarebbero bastati tre operai che mi fischiavano per avere il giorno dopo i titoli a nove colonne Bonaccini fischiato a Mirafiori magari anche già qualche titolo di apertura dei telegiornali la sera stessa e magari per chi non ha il tempo di leggere tutte le notizie o magari distrattamente ne guarda solo i titoli si sarebbero molti chiesti dov'è che avessi sbagliato o cos'è che non avesse funzionato farlo in tempi normali, non di competizioni non significa granché farlo dentro una campagna congressuale voi capite che temevo di dare un danno non tanto alla mia candidatura ma soprattutto al vostro sostegno e al vostro affetto però ho pensato che fosse giusto rischiare è vero, erano tanti anni che non ci andava più nessuno a parlare con quegli operai i fischi non sono mai arrivati ma perché non c'eravamo e quando hanno votato, hanno votato direttamente quegli altri noi abbiamo bisogno e se divento segretario sarà così di tornare ogni tanto davanti a Mirafiori non solo a Mirafiori a Torino davanti alle tante Mirafiori che ci sono in questa regione e ci sono nel paese guardate, mi ha colpito una cosa gli operai che mi aspettavano mi hanno detto sappiamo che non sei venuto a fare passarella perché i nostri colleghi della FIOM, della FIM e della UIM ci hanno detto che in Emilia-Romagna ogni volta che c'è stato un problema una crisi aziendale tu o i tuoi assessori o qualcuno di voi c'era ogni volta però mi hanno detto guardaci negli occhi se diventi segretario promettici che non tornerai tra dieci anni io non potrò andarci se diventerò segretario tutte le settimane ma noi dobbiamo costruire le condizioni di un nuovo gruppo dirigente pescato e fatemelo dire soprattutto nei territori dove le cose in particolare funzionano e hanno funzionato mi hanno accusato di voler fare il partito dei sindaci no, non basterebbe il partito dei sindaci però perdonatemi non può neanche essere che tanti sindaci, sindache, amministratrici, amministratori che ci hanno messo la faccia hanno vinto anche quando perdavamo a livello nazionale non siano mai coinvolti nel gruppo dirigente nazionale così come lo dico per tanti che hanno tenuto aperto i circoli anche quando non c'era più un euro in cassa se divento segretario nazionale il 2 per mille e la gran parte del tesseramento deve rimanere nei territori abbiamo bisogno di permettere di fare politica recuperare la militanza e soprattutto, ho detto un nuovo gruppo dirigente che metta delle scarpe comode consumi le suole e davanti a Mirafiori se non io qualcuno di noi dovrà andarci molto spesso abbiamo bisogno di ridare fiducia alle persone è stato un viaggio bellissimo ho incontrato migliaia di persone abbiamo fatto migliaia di chilometri e abbiamo potuto constatare come sì delusione sofferenze sconfitte ma c'è una voglia enorme di tornare a rilanciare e rigenerare il Partito Democratico io vedo che sta ricominciando a piovere e termino qui perché per chi ha qualche anno come me Giancarlo Paietta diceva che quando parli davanti a una folla che è già convinta l'unico rischio è parlare troppo è di perdere qualche voto quindi non voglio perdere voti perché ne abbiamo bisogno domani facciamo in modo che domani sia una grande festa democratica chiamate tutti quelli che potete e se domani sera verrà confermato il voto degli iscritti vedrete che da lunedì ci divertiremo tutti insieme grazie grazie